capacità di combinare in modo autonomo lo sottolino ecco che cosa significa secondo la pedagogia competenza la parola competenza per tanti versi e per altri tipi di ambiti ha un significato completamente differente allora non ho bevuto birra però ci sto attento qualcuno ha capito perché ho detto questa sottolineatura allora la competenza per la pedagogia è quindi la capacità di combinare le proprie capacità le proprie conoscenze le proprie i propri studi in qualcosa di nostro e farne qualcosa di pratico per la tecnica è una competenza specifica per il diritto altro per la per la biologia ad esempio la capacità di creare una struttura un organo quindi per ogni tipo di area ogni tipo di tema ogni tipo di materia la competenza c'è il suo significato però quello che mi piace oggi approfondire è il concetto di competenza dal punto di vista pedagogico andrologico qualcuno direbbe perché parliamo di uomo uomo nel concetto unico nel termine che non esiste uomo donna nel concetto uomo quando si parla di uomo è un tutt'uno uomo e donna è l'uomo primo quindi senza andare troppo e a remoto con il mito è concetto dell'uomo in generale dell'essore umani dell'umanità dell'essore umano in generale questo video vorrà essere brevissimo quindi massimo 5 minuti per parlarti appunto di competenza tutto quello che c'è da sapere quello che penso io appunto la competenza ho detto già in breve quello in cui le materie si esprimono no in diverse forme ho detto che ci sono tantissime tantissimi significati quello che credo io rispetto alla competenza è qualcosa che ha a che fare appunto sia lato pedagogico sia il lato tecnico ma anche quello biologico mi spiego meglio la pedagogia dice che è la capacità di combinare di essere autonomo quindi la capacità di prendere delle strade che hai fatto nella vita combinarle in un'unica strada per farci qualcosa di tuo questa è la cosa bellissima che credo sia funzionale per la nostra vita cioè nella nostra storia di vita abbiamo preso da tanti input quelli che sono le nostre esperienze dei significati e li possiamo trasformare insieme in qualcosa di nuovo di specifico di originale anche se vogliamo ma anche no però di qualcosa di nostro che è un luogo un nostro linguaggio per questo io ci tengo tantissimo affinché le persone si iniziano a raccontare alla maniera più semplice che possono fare però iniziare a raccontare il proprio punto di vista di quello che vogliono realizzare di quelli che sono i loro desideri sogni e competenze appunto per potersi presentare e dare la possibilità ad altri di essere aiutati o comunque accompagnati in quelli che sono le loro difficoltà quindi qui arriviamo proprio nel concetto di competenze che più mi ha rivoluzionato negli ultimi anni che è quello la della consapevolezza che in questo mondo non esiste una persona bravissimi e grandissima una persona piccolissima cioè una persona che vale di più una persona che vale di meno ma esistono solo persone che hanno differenti competenze e quindi hanno differenti scambi quindi ci sono persone che hanno una determinata competenza specifica e una persona che quella competenza specifica la sta cercando allora si uniscono e fanno quello che possiamo dire l'incontro match si incontrano e portano a termine quel tipo di di relazione perché voi si sono incontrati uno per cui c'è una competenza l'altro per cui la sta richiedendo perché gli serve quindi la competenza non è altro che qualcosa che nel mondo ognuno di noi ha in qualche modo e tutti abbiamo in qualche modo qualche competenza quindi non c'è nessuna persona nessun essere umano che non ha una competenza abbiamo tutti delle competenze non c'è persona migliore o peggiore solo per il grado di competenza la capacità sono tutti funzionali in questo mondo quindi non esistono più il concetto duale dove uno è funzionale l'altro non è funzionale sono tutti funzionali però ognuno di noi ha una sua funzionalità e comprendere quella che è il nostro modo di funzionare e quali sono le nostre competenze è una logica ideale per poter iniziare a fare per poter iniziare a fare quello che sappiamo fare e la smettiamo così di giudicare le persone per come sono ma iniziamo a pensare che le persone sono quello che sono con la loro determinata storia di vita la loro competenza e sono comunque funzionali meglio no? poi un'altra cosa su cui dovremmo ragionare è tutto il concetto di quanto vale una competenza rispetto a un'altra sì ci sono delle competenze che hanno effettivamente un valore più alto competenze che hanno un valore più basso ad esempio saper trasformare un file doc in file pdf è una competenza che per qualcuno in questo momento ha un valore altissimo per me ha un valore bassissimo perché è una cosa che ho imparato a fare agli albori di internet la trasformazione di file e per me è come il pane quotidiano per altri invece come mia nonna potrebbe essere un mio coetaneo che non ha mai utilizzato l'informatica o comunque un giovincello che sta iniziando adesso e non ha mai avuto modo di indagare queste cose qui ha bisogno di questo tipo di competenza ed è disponibile a riconoscere con un valore per poterla soddisfare quindi in base alle persone con cui abbiamo a che fare la nostra competenza ha un valore specifico ed è soggettivo questo che vuol dire? che non esistono competenze per tutti allo stesso livello tutto allo stesso significato ma esistono diverse competenze soggettive per ciascuno a livello di valori e che sono tutte funzionali per qualcuno che magari è arrivato ancora non è arrivato dove siamo arrivati noi ed è un pochino più indietro nei suoi passi rispetto a noi passi che noi abbiamo già fatto con le nostre conoscenze, studi e esperienze abbiamo quella competenza che possiamo offrire e noi facciamo uno scampio tutto qua spero che questo video sia durato pochissimo per poterti soddisfare la curiosità del concetto di competenza secondo me che cos'è sappi che se trovi il motivo per cui vuoi fare quello che vuoi fare trovi la tua storia con le tue competenze specifiche di quelle che oggi hai a disposizione e potresti mettere a disposizione appunto per altre che non le hanno sei in grado di costruire un progetto insieme a me e io mi occupo proprio di questo quindi se ti va di candidarti a questo mio percorso di costruzione di un progetto con le tue competenze specifiche di attuali contattami se ti è piaciuto questo video inviami un bel like, commenta e ci vediamo al prossimo video ciao